Il giorno del ricordo, della memoria, la Repubblica Italiana riconosce il 27 gennaio come data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, al fine di ricordare la Shoah, lo sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei e gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che anche in campi e schieramenti diversi si sono posti al progetto di sterminio, a rischio della propria vita, hanno salvato altre vite, protetto i perseguitati. Il giorno della memoria, divenuta una ricorrenza internazionale per commemorare le vittime dell'Olocausto, a Fano si è aperta con una seduta straordinaria del Consiglio Comunale nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna, alla presenza di autorità e studenti, ma anche del Vescovo Trasarti, che ha voluto lasciare un messaggio forte alle nuove generazioni presenti. Centro del dibattito condotto da Leonardo Fresta dell'Università di Urbino è stato l'Ecidio di Babi Yar, un fossato tristemente noto per essere stato durante la Seconda Guerra Mondiale, un sito di massacri ad opera dei nazisti nel 41, nel cuore della città ucraina, ai danni della popolazione locale. La giornata è proseguita nell'atrio della residenza comunale per la commemorazione dei profughi ebrei, superstiti dei campi nazisti, ospiti della città di Fano dal dicembre del 45 al maggio del 1948. La memoria deve essere sempre un punto di riferimento per capire di quale atrocità è stata capace l'umanità. E purtroppo anche le cronache dei nostri giorni ci dicono che questi momenti sono sempre purtroppo di grande attualità. C'è sempre un motivo perché ci debba essere, ci possa essere qualcuno più debole e discriminato. Devono essere momenti di riflessione, non delle ritualità, perché altrimenti non avremmo capito nulla. E questo è il senso anche dell'organizzazione di questa giornata.